È aumentato negli ultimi anni il numero dei fungaioli occasionali, persone cioè che conoscono poco funghi e boschi ma vanno lo stesso all'avventura, a segnalarlo l'ispettorato micologico dell'ASL4 che fa riferimento a dati statistici. D'altra parte, se la cronaca degli ultimi mesi parla di fungaioli dispersi, deceduti, feriti e multati, qualcosa di strano c'è. I raccoglitori occasionali, spiegano dall'ispettorato, sono coloro che si avventurano nei boschi seguendo la moda del momento e raccolgono tutto quello che trovano, peraltro aumentando il rischio di intossicazione. Non tutti li fanno controllare o comunque, si chiedono agli ispettori dell'ASL, si riesce davvero ad arrivare a tutti? Sono sempre meno, dicono ancora, i fungaioli esperti, quelli di una volta, che conoscevano bene i boschi e sapevano quali funghi erano commestibili e quali no. Ora si porta via tutto, anche quelli velenosi, che è pure una contraddizione, oltre ad essere vietato. C'è un altro punto, credendo che con un cellulare in tasca si possa andare ovunque senza rischi, dicono dall'ASL4, in realtà aumentano i pericoli, non solo perché non sempre si conoscono tutte le potenzialità degli smartphone e dei sistemi GPS, ma perché in alcuni casi, come si è visto di recente, un telefonino può non avere la linea o perderla in un determinato momento e luogo. Non basta dunque leggere libri sui funghi, articoli di giornale, per pensare di essere dei cercatori esperti. La legge del Bosco va conosciuta a fondo, così come le regole di comportamento, alle quali i vari consorzi negli ultimi tempi stanno lavorando molto, ma che non sempre vengono prese in considerazione. I luoghi del Levante, presi maggiormente d'assalto, sono i boschi del Monte Penna, dell'Aiona e dell'area bassa di Rezzo Aglio, dove peraltro in questi ultimi giorni hanno ripreso a nascere i funghi. Perciò attenzione, quando ci si trova tra gli alberi e in caso di dubbi sul raccolto, fondamentale è contattare l'Ispettorato Micologico.